Il Comune di Ponte Cagnano Faiano ha indetto l'avviso per la partecipazione al bando pubblico condividere i bisogni per condividere il senso della vita. 200 le famiglie che potranno fruire del servizio, che garantirà la distribuzione mensile di pacchi alimentari contenenti generi di prima necessità a favore di nuclei familiari in particolari condizioni di disagio. Requisiti per l'accesso alla graduatoria sono l'avere ottenuto la residenza nel Comune di Ponte Cagnano da almeno 12 mesi, la presentazione di un reddito ISEE inferiore o pari a 6.597 euro e la mancata ricezione di analoghi sussidi da enti religiosi e associazioni del territorio. Gli interessati potranno presentare regolare istanza compilando la domanda scaricabile anche dal sito istituzionale.